Un anno di consiglio regionale, il resoconto dei lavori e degli obiettivi raggiunti dai vari schieramenti. Un anno di consiglio regionale, i buoni propositi per il 2023, i progetti, le idee e le priorità per il nuovo anno. Nell'ultima puntata del 2022 di Consiglio Informa sentiamo il commento del presidente della regione toscana Eugenio Gianni, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e di alcuni dei capi gruppo dei vari schieramenti che tracciano un bilancio di un anno di consiglio regionale, il resoconto dei lavori e degli obiettivi raggiunti. Indubbiamente siamo alla fine di un anno che è stato un anno molto delicato, per non dire pesante. Pensate che iniziamo con la prima settimana dell'anno che il Covid ci portava 96.000 contagiati nell'arco di una settimana, il record assoluto in questi due anni di pandemia. Poi nel momento in cui sembrava fermarsi la morsa della pandemia, effettivamente è stato poi così. Abbiamo avuto il 24 di febbraio la guerra e dopo la guerra i riflessi sul piano economico, dall'occupazione dell'Ucraina ecco il costo dell'energia, il costo delle materie prime. Abbiamo cercato di affrontare con razionalità e capacità di guardare con speranza al futuro. È stato un anno, come per tante famiglie e tanti cittadini, un anno di luce e di ombre. È stato l'anno in cui pian piano stiamo provando a uscire dalla pandemia, che ha segnato la vita di ciascuno di noi, ma è stato anche l'anno, purtroppo, in cui è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina che ha segnato la vita di tante donne e di tanti uomini. Però è stato un anno in cui ci siamo presi il compito di cercare di ripartire. I problemi aperti sono tanti, penso alla questione legata al caro Bollette, penso alle tante, troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuodono le nostre coscienze. Penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce. Qui ci sta un pezzo dell'idea di Toscana che abbiamo sviluppato in questo tempo e quindi io voglio ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per il lavoro che hanno portato avanti, senza nessuna differenza di colore politico, pensando sempre ai bisogni dei cittadini e delle cittadine della Toscana. Intanto noi usciamo da un 2022 nel quale ci siamo impegnati come gruppo, ma complessivamente come Commissione e come Consiglio, su alcuni aspetti fondamentali. Intanto gli Stati Generali della Salute è stato un percorso lungo e impegnativo, abbiamo interessato e ascoltato tantissimi portatori di interesse, dai professionisti ai sindacati, al volontariato, alle istituzioni locali e poi abbiamo proposto e approvato una risoluzione che dà indicazioni precise per quanto riguarda quella che dovrà essere la sanità del futuro, una sanità più ricca di servizi territoriali, in grado di dare risposte anche ad una popolazione che vive di più e però è anche colpita da malattie magari croniche, interventi per cercare di reperire anche quella che è una difficoltà oggi molto presente in molti professionisti di alcune specializzazioni mediche che mancano. Abbiamo approvato leggi importanti come quella che dicevo dei custodi della montagna, abbiamo poi avviato il percorso degli Stati Generali della Cultura, un altro percorso per cercare di mettere a punto strategie e progetti di carattere culturale partendo dal basso e coinvolgendo tutti quelli che sono i portatori di interesse. Da questo punto di vista siamo rimasti confortati anche da un sondaggio che abbiamo commissionato che ci dice che i toscani vedono nella cultura un aspetto molto importante della loro vita, non soltanto per l'accrescimento delle conoscenze personali ma proprio anche come elemento di sviluppo legato al turismo, legato insomma all'economia, legato all'occupazione soprattutto giovanile e più del 90% sono d'accordo con gli investimenti in cultura e ci chiedono addirittura anche di poterli aumentare. Il Consiglio regionale a mio avviso ha lavorato bene, ha lavorato in maniera molto intensa, finalmente abbiamo avuto una riscoperta dell'attività politica anche dialettica, questo non lo nascondo, rispetto alla nostra libertà di agire in Consiglio regionale come Gruppo d'Italia Viva. Grande soddisfazione come Vicepresidente per aver portato a casa due risultati importanti a favore dei giovani. Penso alle leggi che adesso andremo ad approvare sull'identità culturale toscana che dà una risposta ai ragazzi 18 anni rispetto alla possibilità di entrare in contatto con la Toscana e a esperienze di carattere culturali e soprattutto a quella di iniziativa che ha messo tanti giovani a lavorare insieme a riscoprire elementi di relazione. Un Consiglio regionale che comunque deve lavorare ancora di più e meglio rispetto agli strumenti di programmazione. Penso a quello che riguarda il piano regionale di sviluppo soprattutto e al piano dei rifiuti, due atti che nel 2023 non potranno mancare. Ci si può ricordare tante cose, la regione toscana è intervenuta su tanti ambiti. Quello che le opposizioni hanno fatto anche in maniera costruttiva è quella di lavorare sulla tematica principale, quella della sanità, quindi andare a cercare quelle difficoltà che riguardano in sostanza due temi che i cittadini toscani vivono tutti i giorni. La prenotazione per una visita medica, quindi le liste d'attesa, quindi il non funzionamento del CUP quando magari ci viene detto che una lista è chiusa e in realtà non è così ma si rimanda poi magari la chiamata al mese dopo, mettendo in grave difficoltà i cittadini che magari per una visita cardiologica devono aspettare anche un anno e mezzo, per fare un esempio. Ci si ricorda che a fronte di questo il grande sforzo dei nostri medici e infermieri però al contempo quando leggiamo le note degli ordini dei medici e degli infermieri sui territori notiamo notevole difficoltà. Quindi questo è il tema principale che è quello sanitario ma anche dal punto di vista dell'ambiente non siamo messi bene. Lo scandalo del Keu è sicuramente un tema centrale di questo anno perché prima di tutto ci riporta alle infiltrazioni mafiose in Toscana che non è una regione felice da questo punto di vista ma che ha delle infiltrazioni in questo caso dell'andrangheta molto profonde anche sul nostro tessuto sociale e imprenditoriale. Quindi anche da questo punto di vista c'è molto da fare e non si fa con la manifestazione di interessi mancando per fare il piano dei rifiuti e quindi una procedura che in realtà si sta allungando rispetto a quello che c'era stato detto e questo chiaramente pone delle problematiche perché dobbiamo pagare molto i servizi e i servizi che ci vengono resi evidentemente non sono soddisfacenti sia dal punto di vista dello smantimento dei rifiuti, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista dell'acqua. Non si sta lavorando per come i cittadini toscani meriterebbero. È stato un anno sicuramente impegnativo perché è coinciso anche con una grave emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina che ha coinvolto tutti gli attori mondiali con conseguenze che non ci saremo aspettati e soprattutto sono coincise con il momento con il quale stavamo uscendo dall'emergenza pandemica. Questo ha significato che se prima si lavorava già in emergenza pur senza necessità particolari si è continuato ad andare in questa direzione per certi punti di vista e quindi di nuovo questa giunta non ha dimostrato dal punto di vista dello sguardo volto al futuro nessuna attenzione, è semplicemente un vivere alla giornata con ciò che sia scaricando la responsabilità della propria incapacità organizzativa e amministrativa sui vari attori, il governo da una parte, il conflitto dall'altra e le contingenze internazionali dall'altra ancora. In realtà quello che si registra veramente è un continuare a lavorare giorno per giorno su vari fronti andando più che altro in difesa e soprattutto commettendo errori strategici madornali come quello per esempio della sanità territoriale ancora trascurata, errori come il non aver preso il contributo per il sin sir di massa dal ministero per problematiche che ci sono state di gestione e così via. È stato un anno strano, è stato un anno in cui secondo me maggioranza e opposizione non hanno trovato un modo di dialogare. Noi siamo stati sempre considerati da parte della maggioranza un qualcosa da non coinvolgere nelle decisioni, un qualcosa da non far partecipare alle decisioni. Non è così che si amministra, non è così che si governa o meglio se si sceglie di governare escludendo sempre a priori non ascoltando mai i consigli suggerimenti che arrivano all'opposizione poi ci si prendono reoneri e quando poi porti un bilancio e ti fai appello a 400 milioni di soldi che dovrebbero arrivare dal payback, che se arrivassero tutti o si sana il bilancio della regione toscana e si mettono in ginocchio decine di aziende che operano nel comparto sanitario o si salvano le aziende e non si salva la regione toscana. Magari a volte ascoltare anche i suggerimenti, le proposte di legge che arrivano da parte nostra non sarebbe male. Noi chiudiamo un anno con una decina di proposte di legge presentate, abbiamo la presunzione di credere che le proposte di legge che presenta Fratelli d'Italia non siano proposte di legge tutte stupide o inattuabili o inutili o pleonastiche, sono tutte bloccate in commissione. Perché il Partito Democratico quando Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge la nasce in commissione, non la porta in consiglio. Perché sa che se la porta in consiglio o la vota e ammette che l'opposizione ha più idee della maggioranza, oppure la boccia ma dovrebbe bocciare una legge scritta con un buon senso e allora preferisci lasciarla morire in commissione. Non è il modo in cui si gestisce una regione. Quindi un anno fatto di tanti contrasti, di tante spigolature e speriamo che l'anno prossimo l'opposizione sia quantomeno ascoltata. Noi non pensiamo ad avere le ricette a tutti i mali della Toscana, ma crediamo che se la maggioranza ci ascoltasse un po' di più probabilmente qualche buona idea arriverebbe anche dai nostri banchi. Un anno di consiglio regionale con il 2023 che si avvicina, sentiamo adesso quelli che sono i buoni propositi, i progetti, le idee e le priorità per il nuovo anno. L'augurio di quest'anno è che sia l'anno nel quale veramente da un lato si respira progressivamente quello che è l'aspirazione alla pace, ma dall'altro ecco la necessità di concretizzare tutta una serie di interventi che dal PNNR a quello che sono i fondi europei ci possano essere volano per la nostra economia. E dall'altro grande solidarietà, solidarietà a chi si trova a vivere condizioni di povertà perché indubbiamente la situazione economica ha determinato questo, solidarietà verso i migranti che per la prima volta, se accadrà fra due giorni qua in Toscana arriveranno nel porto di Livorno, solidarietà nei confronti di coloro che vivono negli ospedali o comunque nei luoghi della nostra sanità pubblica, delle condizioni che richiedono eccellenza nell'operare. Io sono molto convinto che quello che la Regione sta facendo pone la Toscana a Regione d'eccellenza. Quest'anno è l'anno in cui gli italo-americani ci hanno designato Regione dell'anno come Regione Toscana e sono convinto che vi saranno tutte le condizioni perché la ripresa del turismo, delle nostre attività manifatturiere, della potenzialità che questa Regione riesce a esprimere anche nell'essere toscana diffusa, ovvero non solo nelle grandi città ma anche nei suoi paesi di montagna, nei suoi borghi, nelle aree di minore densità abitativa, possa dare quel senso di forza e di compattezza che questa Regione riesce a esprimere anche nel solidarizzare con chi soffre. Pensate alle donne iraniane che scendono in piazza e ai minori che vengono uccisi semplicemente perché nella piazza in qualche modo testimoniano un'università di opinione rispetto a quel regime. Insomma, la Toscana dei diritti, la Toscana della solidarietà, la Toscana che cerca livelli sempre più alti di welfare state e la Toscana che guarda con speranza al 2023. Le priorità devono essere quelle che per noi sono un po' la bussola del lavoro già in questi anni, lavoro, ambiente, formazione, in linea con quello che è stato il lavoro anche di quest'anno. Vorrei però prendere un impegno, che è anche un modo per fare gli auguri alle Toscane e ai Toscani, un impegno insieme a tutti gli altri eletti nell'Assemblea legislativa. Cerchiamo di costruire le condizioni perché nel prossimo anno mettiamo sempre più in campo proposte di legge che poi si trasformano in legge per offrire più diritti e più opportunità, soprattutto ai giovani e alle donne. È in arrivo la proposta con cui finalmente metteremo a disposizione delle giovani coppie l'asilo nido gratuito sotto un certo livello di sé. Questo sarà una delle prime iniziative in questa direzione. Questa deve essere la strada da tracciare nei prossimi anni e poi fare in modo che la sanità arrivi sempre più vicino ai cittadini, con un impegno che un bimbo che nasce nel paese più periferico della nostra regione abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Il 2023 vede l'attuazione delle indicazioni che abbiamo approvato a seguito di questi percorsi, ma soprattutto l'impegno principale sarà quello per l'approvazione del piano regionale di sviluppo, il piano che farà da cornice a tutte le politiche, a tutte le scelte, a tutte le strategie che il governo regionale dovrà portare avanti. Il piano regionale di sviluppo sta arrivando in consiglio. Noi abbiamo anche anticipato come gruppo alcuni incontri sui territori per iniziare a raccogliere anche da questo punto di vista delle indicazioni. Ci sono importanti investimenti che dovranno proseguire o che potranno iniziare. La Dazza in Europa appunto, il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, la viabilità regionale. Ho visto che stanno arrivando i treni che fanno parte del contratto che da assessore avevo anche siglato con Trenitalia. Quindi il futuro della Toscana anche nel 2023 vedrà il nostro impegno per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche del lavoro, per quanto riguarda la salute dei toscani e per quanto riguarda un sostegno all'economia. Quindi anche attraverso tutta una serie di interventi e di bandi che verranno pubblicati per quanto riguarda il sostegno alle nostre imprese. Per il 2023 un impegno importante a fare delle scelte importanti per la Toscana. Penso sul piano regionale di sviluppo che deve vedere i territori protagonisti e un piano dei rifiuti, soprattutto l'assunzione di responsabilità a importanti decisioni che mancano da troppi anni in Toscana. A margine di queste due grandi decisioni che ci vedranno impegnate, a mio avviso nei prossimi tre mesi, dobbiamo definire come allocare le risorse comunitarie dei prossimi sette anni. Queste risorse comunitarie devono essere allocate a favore di quei territori che meno di altri hanno beneficiato delle risorse del PNRR. Questo elemento a nostro avviso è fondamentale e proviamo a farlo nei primi mesi dell'anno. Le priorità da affrontare per il 2023 nella regione toscana sono tantissime. Il tema centrale rimane quello sanitario. Dobbiamo superare le difficoltà dei cittadini toscani nella prenotazione delle visite sulle liste d'attesa. Dobbiamo garantire anche la possibilità all'interno dei centri privati di poter svolgere le visite convenzionate e quindi garantire un plafond per le visite convenzionate nei centri privati sanitari. Dobbiamo lavorare affinché i nostri medici e infermieri possano essere gratificati di più e anche economicamente per quello che fanno. Tanti sono poi gli aspetti dal punto di vista ambientale. Dobbiamo lavorare seriamente su quelli che sono i piani regionali dal punto di vista dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti. Smetterla di fare gli stati generali della salute, della cultura, dello sport, dell'ambiente ma dobbiamo iniziare a legiferare, lavorare e cambiare veramente questa regione anche dal punto di vista legislativo che è il nostro compito qui in regione toscana. Continuare con un'attenta attività di monitoraggio e ispettiva ciò che fa la giunta, continuare a dire ai cittadini tutto ciò che non va e fargli capire che sono attori partecipi della politica, che devono ancora più diventarlo. Il Movimento 5 Stelle si strutturerà sempre di più sui territori e lo farà in questo momento parlando di alcuni argomenti che stanno a cuore delle persone. Le comunità energetiche, uno strumento eccellente per superare l'attuale crisi amministrativa. La questione della sanità appunto, dobbiamo riportare la sanità vicino ai cittadini e la scuola, la cultura, l'istruzione che deve finalmente ritornare a essere una parte centrale anche della nostra attività. Il buon proposito è uno, quello di riportare la Toscana dove merita di stare. La Toscana è la regione che storicamente tutti individuano come il faro della sanità nazionale e oggi non è più un faro ma anzi sta tra le peggiori d'Italia, non è più la regione guida o tra le regioni guida nel campo delle infrastrutture, anzi un tempo si diceva che da un punto di vista infrastrutturale la regione Toscana era una delle grandi regioni del nord. Oggi la regione Toscana da un punto di vista strutturale è una delle regioni del sud in difficoltà perché basti pensare ai collegamenti tra Firenze e Grosseto, una persona di Grosseto fa prima di andare a Roma che non arrivare nel proprio capoluogo di regione, non esiste un collegamento, non esiste un collegamento che non sia una superstrada obsoleta, drammatica, in perenne stato di caos come la Firenze-Pisa-Livorno che collega il capoluogo di regione con il principale aeroporto della regione, l'aeroporto di Pisa e il principale porto della regione che è il porto di Livorno. Non esiste un'altra regione d'Italia degna di tale nome che vuole ambire ad essere una regione che faccia da punto di riferimento, che non riesca a collegare il proprio capoluogo, una città importante come Firenze, conosciuta in tutto il mondo, apprezzata in tutto il mondo, con l'aeroporto e il porto. Non esiste. In Toscana siamo in questa situazione, abbiamo un gap incredibile che pagano i residenti di alcune zone, ci sono ancora tantissime zone della Toscana che non hanno neppure una copertura con la rete, non sono ancora connessi digitalmente, si paga un digital divide incredibile. Ma vi sembra normale che nella Toscana nel 2024-2023 un ragazzo che nasce a 100 km di distanza da un altro nasca e parta già 10 passi indietro rispetto all'altro, perché per andare all'università deve spendere tre volte tanto di soldi, perché per formarsi deve spendere tre volte tanto, perché non può avere l'accesso a contenuti digitali come chi nasce nei grandi centri, nei grandi capoluogo. Questa non è una roba da Toscana nel 2023. Purtroppo in Toscana c'è anche questo e sul Digital Divide abbiamo approvato in un anno decine di atti, vorrei sapere quali di questi hanno prodotto un risultato visibile e tangibile, credo nessuno. E questa era l'ultima puntata di Consiglio Informa che tornerà puntuale nel 2023. Buon anno a tutti.